Secondo me la scena finale racchiude tutto il film, che devo dire il film è carino, è molto divertente, è un film spensierato, un film che ricorda le amicizie, l'estate, gli amori che uno vive d'estate, quando ci si innamora, e in realtà quello sguardo e quegli sguardi tra me e Jerry racchiudono tante cose, cioè probabilmente tutto quello che porta nostalgia, anche la fine di un amore, e poi l'inizio di nuove stati e di nuovi amori.